Incontro a Roma tra i presidenti delle regioni italiane per trovare punti di equilibrio sul tema della richiesta di maggiore autonomia presentata da alcune regioni. Sulla questione è intervenuto anche il presidente della regione Puglia Michele Emiliano che ha sottolineato come era prevedibile la confusione regna sovrana. Il seminario oggi ha dato alcune risposte sulla autonomia differenziata ma ha anche, devo dire, allargato il numero delle domande e degli interrogativi. Quindi interessante dal punto di vista scientifico, dal punto di vista dell'indirizzo politico è evidente che serve una maggiore concertazione tra le regioni che devono trovare un'intesa sui percorsi. Anche quelle che non hanno intenzione di presentare domanda di autonomia rafforzata non possono essere del tutto estranee nella procedura legislativa. E ovviamente, soprattutto, fare in modo che i partiti politici abbiano le stesse posizioni in tutto il territorio dello Stato e non si distinguano invece dal punto di vista geografico anziché dal punto di vista dell'indirizzo politico. La confusione quindi regna sovrana come era prevedibile.